Io vorrei andare in diretta da Yoni Asher, perché fino adesso abbiamo detto di chi aiuta le persone che non trovano i propri cari. Yoni, da ieri mattina sta vivendo un incubo. Buonasera. Sì, da ieri ho perso i contatti con mia moglie. Era nel kibbutz di Oz, vicino a Gaza. Da quando ho perso i contatti con lei, ho localizzato il suo cellulare ed ho visto che si trova all'interno di Gaza. Dopodiché ho visto un video, lo stesso video che si può vedere sui social, e sicuramente ho riconosciuto lì mia moglie, presa da Hamas e le due mie figliolette, che hanno soltanto 5 e 3 anni, sono delle bambine. Doron, si chiama mia moglie. Raz e Aviv sono i nomi delle mie bambine. Dopo aver visto il video, ho capito che sono state rapite. Yoni, ma da quel momento nessuno ha più preso contatto con lei? Lei non è riuscito più a mettere insieme nessun pezzo di storia per riuscire a capire dove sono in questo momento, che cosa sta succedendo loro? Ieri è stato un caos e non sono riuscito a contattare nessuno delle autorità. Oggi è andata molto meglio, ho cominciato a comunicare con le autorità, non ho avuto ancora informazioni. Non so, non so cosa è successo alle mie bambine, cosa è successo a mia moglie. Ho soltanto visto che le hanno prese. E da allora non so che cosa sia successo a loro, in quali condizioni si trovino. Vi ricordo che sono delle bambine. Sono tenute da terroristi di Hamas. Potete immaginare quello che mi passa per la testa, quello che mi è passato nelle ultime 24 ore. No, credo che non ce la facciamo davvero. Mi dice come si chiamano le sue bambine? La più grande, Raz, la più grande, ha quasi 5 anni. La piccolina, Aviv, ha quasi 3 anni. Erano col passeggino quando le hanno prese? Mia moglie si chiama Aron, ha 34 anni. Ma erano lì in casa. Che cosa stavano facendo quando sono arrivati i terroristi? Dal mattino presto ci sono stati dei razzi lanciati. Noi li abbiamo messi nella stanza di sicurezza. Dalla mattina presto, di sabato mattina presto. Verso le 10 del mattino io ho parlato con lei al cellulare. Dopodiché, dopo quella telefonata in cui lei mi aveva detto che i terroristi erano dentro la casa. Poi a un certo punto abbiamo perso la linea, siamo stati disconnessi. E da allora non sono riuscito a raggiungerla di nuovo. Ho tracciato il suo cellulare, ma poi dopo, quando ho visto il video, ho capito che erano stati rapiti insieme alle bambine. Senta, io so che per lei è durissimo parlarne. So che ne ha voluto parlare perché ci sia la massima attenzione possibile su ognuno di loro e ci sia anche tutta la comunità internazionale che sente il peso di quello che lei sta vivendo. Ioni, se lei mi dice che è d'accordo, io faccio vedere questo video perché tutti si rendano conto di quello che lei ci ha raccontato. Però ce lo dica lei e solo se lei è d'accordo io mostro a chi ci sta guardando in questo momento il video nel quale lei ha riconosciuto sua moglie e le sue bambine. Sì, do l'autorizzazione a mostrare il video. Allora, guardate, questo è il video nel quale Ioni ha riconosciuto sua moglie e le sue figlie. Dateci un secondo perché è un video che deve passare direttamente dal tablet. Dovrebbero averlo in questo momento. Vediamo se in regia c'è in questo momento. Lo remittiamo dall'inizio. Eccolo. Ecco, questa è mia moglie. E questa, col vestitino rosa, è mia figlia. Questa è la piccolina, con la coperta bianca. Ma perché gli metto la coperta in testa? Potrebbe essere per motivi religiosi? Sì, è drammato. Coprire il capo della donna. Ioni, senta, io... E' una piccola copertina bianca vicino a mia moglie. Quella è la bambina. Non si vede all'inizio, però è lei. Dopo si vede la più grande, con il vestitino rosa e i capelli lunghi, che dà la schiena alla telecamera. La riconosco al 100%. Senta, io la ringrazio, la ringrazio moltissimo per la sua testimonianza, la ringrazio per aver voluto condividere con noi questo momento. Per lei è dolorosissimo e le assicuro che l'unica cosa che attraversa ognuno di noi in questo momento è il pensiero che lei possa rivederle presto, che tutto quello che stiamo discutendo in termini anche di iniziativa internazionale, di attenzione delle persone, di non smettere di avere attenzione per quello che sta succedendo in queste ore in Israele, che le possa servire a far sì che questi terroristi lasciano sua moglie, le sue bambine e le lasciano tornare da lei. Noi siamo molto vicini a lei e la ringraziamo per essere stato con noi questo pomeriggio a condividere questa parte dolorosissima della sua storia. Grazie.